Per lo sport che rappresenta l'elisir di lunga vita della popolazione marchigiana, l'investimento per il 2017 è quadruplo rispetto allo scorso anno e dieci volte superiore alle precedenti amministrazioni. Ammontano a 4.360.000 euro i fondi stanziati dalla Giunta regionale per l'attuazione del programma annuale degli interventi di promozione sportiva 2017. È una scelta di investire su una dimensione della vita della nostra regione molto sentita dalla popolazione, da tante realtà che ai vari livelli, da chi organizza gare mondiali a chi va in palestra per tenersi in forma, molto vissuta. Un movimento importante che dà un valore aggiunto in tutto quello che fa, che ha bisogno di sentire la regione vicina, in sintonia con il proprio territorio. Significa da una parte spingere sulle manifestazioni, dalle più piccole fino a quelle di valore internazionale, con anche una capacità di cattura in termini di televisione, di immagine, di turismo, che è un connubio molto importante, già vissuto a livello regionale. Dall'altra l'investimento sugli impianti sportivi, che sono il motore dell'attività, soprattutto in termini di manutenzione. Per gli impianti e le attrezzature sportive e la riqualificazione di quelli di proprietà pubblica, ammontano a 3 milioni e 200 mila le somme assegnate per riqualificare gli impianti pubblici esistenti, attraverso la concessione di contributi in conto capitale e in conto interessi, a favore di enti locali, unione di comuni, università delle marche, organizzazioni sportive affidatarie della gestione degli impianti. Entrambi i fronti, quello degli investimenti, quello dell'attività, con un importo in grado di mettere in moto altre risorse, perché poi chi fa manifestazioni deve aggiungere e chi fa gli investimenti copre la parte mancante. Quindi un motore, un segnale, da una parte di attenzione e dall'altra di stimolo, perché vogliamo che sempre più la regione continui a credere, investire e crescere nello sport. Io sono convinto che nella ricetta segreta che hanno i marchigiani della longevità, certamente c'è la qualità dell'ambiente, certamente c'è un'alimentazione fatta di prodotti straordinari e anche questo amore per lo sport. Grande risalto poi alle manifestazioni sportive, ai campionati mondiali e alle competizioni internazionali che costituiscono una componente di importanza strategica per la promozione turistica del territorio. Per la loro copertura la regione ha stanziato 310.000 euro. Tra gli eventi candidati al contributo, la 34esima edizione dei campionati del mondo di ginnastica ritmica che si terrà a Pesaro con la partecipazione di 54 nazioni e la 40esima edizione del Giro d'Italia Under 23. Altri fondi per promuovere e favorire lo sviluppo delle attività sportive delle persone diversamente abili e uno specifico intervento di 80.000 euro è rivolto ai comuni che rientrano nel cratere del terremoto per promuovere la pratica sportiva e l'attività fisico-motoria.